Vincenzo Biagioli del team Biagioli Corse Buongiorno, sono Biagioli Vincenzo, sono uno dei preparatori delle motoconda e questa è mia ufficina Siamo entrati nel tuo mondo, io anni fa sono venuto a trovarti e ritrovo esattamente lo stesso ambiente, questo ambiente a mattoncini, palazzo storico e dentro esclusivamente, vedo qua, mi giro intorno, moto da due tempi Moto da due tempi, da corsa Esatto, questa è la carriera sia da pilota che da preparatore di due tempi è lunga più di 30 anni, caro Vincenzo Sicuramente sì Quindi, come mi ricordo, hai iniziato da pilota, fino ai anni 70, con moto da gran premio, la 500, una Suzuki 500 GP E poi tutto il resto, ho fatto il meccanico a tanti piloti, ho fatto crescere tanti ragazzini, ho fatto tanti trofei, sia 125, sia 250, sia trofeo Honda GP, è tutto quello che c'è da fare Bene, io ricordo a tutti gli appassionati che ci seguono sul sito 250 GP, che Vincenzo nelle ultime due stagioni ha curato la moto Honda 250 TSR di Marco Petrini, vice campione europeo nel 2008, l'altro anno, quest'anno, nell'anno in corso 2011 c'è stato un bel piazzamento, un terzo posto a Misano e forse si poteva fare qualcosa di più Sicuramente si poteva fare qualcosa di più perché ci vuole la voglia di correre, il Petrini in questo momento non ce l'ha Ha detto così schiettamente, Marco quindi ci idratisci un po', eh? Eh, capita, magari c'ha altre idee per la testa e la corsa sono nel secondo piano, forse anche al terzo piano Vabbè, vedremo nel 2012, Marco, che intenzioni avrà e gli auguriamo un bel in bocca al lupo e speriamo di ritrovarlo presto Dunque, caro Vincenzo, quale tipo di informazioni possiamo dare ai nostri appassionati che vogliono cominciare ad avere, ad entrare nel nostro mondo, quindi a mettere le ruote della loro motocicletta in pista, quali consigli potresti dare per il tipo di assistenza che uno potrebbe offrire? Io curo molto le moto degli altri, quelle che mi portano ad curare, oppure gestisco le mie moto senza nessun problema, io ho tante moto da corsa, da far girare, sicché per me il problema non ce n'è, potrei fare sia la sentenza alla Honda, sia alla Yamaha, sia all'Aprilia, per me non cambia niente, è una moto da corsa Sì, effettivamente il due tempi per Vincenzo non ha segreti, diciamo che principalmente la sua passione è per l'onda, però tranquillamente chi voglia portare una Yamaha TZ o un'Aprilia RSV a farci mettere le mani e lui è sicuramente all'altezza, diciamo che quindi semplificando ti possono portare delle moto per l'assistenza in pista o per la preparazione invernale o addirittura prendere in affitto una moto per una gara, due gare, anche tutto il campionato una delle due moto Certo, io ho delle moto, c'è una TSR, una Honda modello 2007 tutta trasformata, che è quella che ha corso Petrini quest'anno e ho anche una moto con telaio particolare e forcella e sciova, amorezzato e sciova Quindi una moto ufficiale? Di quelle ufficiali Ho capito, quindi diciamo che ci sono vari livelli Tutti i kit possibili e immaginabili perché quello che c'era da mettere ce l'abbiamo messo tutto ormai Quindi la cosa bella è che venire da te si può trovare vari livelli di assistenza, vari livelli di moto E anche vari step di preparazione della moto Esatto, perché tu come mi stai dicendo, tu parli di un TSR, per chi non conosce TSR, che cos'è TSR? TSR è una moto che facevano in Inghilterra e un telaio particolare, montavano tutti i pezzi Honda Ai tempi del Mondiale, comunque la moto lì, era la moto più ambita dai privati Quindi un telaio particolare, forcella non particolare e alcune... Tutta è una moto da competizione vera, che loro vendevano, a quei tempi lì, a 120 milioni Al posto di 30 milioni che era la Honda monobraccio di quei anni lì Praticamente è una specie di prodotto ufficiale insomma È una bella moto con delle bellissime prestazioni, un telaio eccezionale Quindi, ricapitolando, noi possiamo partire, tu puoi dare assistenza, puoi fornire una moto che sia standard a tutti gli effetti Che sia un qualcosa di più evoluto e qualcosa che sia molto vicino alle vecchie moto ufficiali Sì, tranquillamente Quindi, cari amici della TV Web Per il momento aspettiamo con trivitazione il nuovo anno che comincia Per presentare a brevissimo il nuovo calendario della 250 CP 2012 Grazie a tutti, ciao Buongiorno, grazie